E sarà dura perché il nome è un po' così, poi c'è chi ha pregiudizi, ci invece no, quindi insomma è tutto un po'... Che per la legge, Salvatore. Salvatore Parolisi, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea, in permesso premio, viene raggiunto dalla nostra inviata, Raffaella Grigi. Con Federica Sciarelli, chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.20, Rai 3.